Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni, le lettere dell'alfabeto, le parole della vita, della tua vita. Ognuno di noi ha un mondo che è confinato con le proprie parole, che sono quelle che ci nascono. E oggi siamo alla T, T come scrivilo subito, così di getto, prima che ti possa influenzare. T per te, T per me è tempo. Tempo, c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per segnare, c'è un tempo per raccogliere, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per gioire, c'è un tempo per soffrire, c'è un tempo per vincere, c'è un tempo per imparare, lo diceva Ecclesiaste. Il tempo, la più grande risorsa che abbiamo, anche economicamente parlando, lo racconto spessissimo, negli ultimi anni sono stati stampati triliardi di dollari, ma il tempo non si può stampare, il tempo va e basta. E non servono chissà quali studi di economia per comprendere che il tempo è più precioso del denaro, perché essendo una risorsa finita, ovviamente ha un valore più alto. Il tempo e la consapevolezza del tempo. Spessissimo non ci rendiamo conto, pensiamo che sia infinito, non ci rendiamo conto che inizio scorre, pensiamo che possiamo fare tutto nella vita, non ci rendiamo conto che effettivamente ogni fase, vent'anni hai l'energia, trent'anni ne hai un'altra, cinquant'anni, sessant'anni, tu come lo volavi? Dimmi per te cosa significa tempo, per te chi? Che cosa ti fa evocare immediatamente? Perché se non ci rendiamo conto che il tempo è una risorsa preziosissima, ci renderemo conto del peccato che sia andato così velocemente, se dovremmo in un attimo avere quei rimpianti e dire cavoli poteva essere, non è stato. Scrivetevi qua, dai! Dai che zada fazzata!